Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ok, un piccolo stick dove devo aprire Bello cazzo, vai giù! Ma è bellissimo cazzo! Ma è troppo bello! Madonna mia! Madonna, è bellissimo, vai giù! Bellissimo cazzo! Ma questo qua va bene, che dite? Questo c'ho, questo c'ho, non c'ho niente più Questo c'ho Che dite? Va bene questo? Ma con la mascherina! Va bene questo, che dite? Allora, sono, sono un po' problemi C'ho poco upload e ogni tanto la geek, ho capito? Ma domani chiamo la volta Buon pomeriggio maestro Buon pomeriggio maestro Perfetto Ma che dopo facò? Eh no, oddio Oh la porta si è chiusa, vai giù No, no, no Andiamo, andiamo, andiamo Oh! Madonna mia, che... Mi sono cagato sotto, porco dio Che è successo? Mamma mia Che è successo? Mamma santa, vai giù Aspiri quasi tutto Questo non ho capito che... Ah no, questo è buono Questo è pericudo, questo è pericudo Mamma mia Maestro non faccia cadere nulla Mamma mia Ho paura Mamma mia Grazie, felice Quindi Alla fine No, vai giù No, porco dio Nooo Dai, mannaggia la puttana Ma porca puttana Ma por... Sono un poco dislessico Ma metti del lento Puglietta anche lento Nooo Ma... La dislessia non riguarda la vista Ah no? E' il disturbo dell'apprendimento Ma non lo so, vabbè Non lo so le valattie Cioè, che ne so io Scuso Cazzo è la valottia Capone e dubbi Metti del lento Scusi Nooo Scusi 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 Puglietta Padre Questo è mio Per la Studia Chiss Ma Spazio prende la scosta giocando grazie felice questa clip quindi alla fine no ma io no ma che la tuttana vergine mannaggia oggi mi faccio le esatezze oggi mi faccio le esatezze oggi mi faccio le esatezze e non è cotto un calcio ma che sei? sto affuando no con l'alga mi sto affuando ma che è? ma che è? ma che è? che cazzo è? può parlare del monstro uitchi né non so se sei se causa ai Spirino mi hanno carato mi hanno carato Spiriinee mi hanno carato Ma non giù cazzo Ma così Così va bene Ma mi vedete Mi vedete Mi vedete ragazzi Ho fatto il record Ho fatto il record Oh cazzo Mi sono sguarrato la mutanda Mi sono sguarrato la mutanda Ok Mi sono andato a controllare in bagno Se mi era un attimo sgommato Mi sono passato i pantaloni Tutto a posto Era quasi uscita Un po' di cacca Era quasi uscita un po' di cacca Ma non mi preoccupate Ma non mi sono sguagato sotto No no Stava quasi per uscire un po' di cacca Falso allarme Non sono stato io Non sono stato E' la clip E' la clip E' stata la clip E' stata la clip E' stata la clip Ha cambiato suono E' stata la clip Ma porca puttana Ma porco dio E' stata la clip Dai Guarda è stata la clip Grazie Ma forse non ero più abituato A sapere il salmone E' stata la clip At Sensione Buongiorno Guru Tra Val cohesive Salute Come ho avuto la sua Come ho avuto la mia Ma ho avuto di torno potosintosi cronofiliano eh beh è una situazione con gli altri tutti con gli AC di ribano grazie ci siamo siamo pronti rullo di tamburi signori rullo di tamburi oh olé voilà vai giù che cazzo ci siamo diciamo amici di twitch per fare i suoni in live basta fare punto esclamativo infosound donando un numero preciso di bit uguale alla canzone che leggete nei comandi bit bit 2 bit 3 e poi c'è anche punto esclamativo alexa potete effettuare la vostra donazione basta che scrivete che citer attaccato tipo 80 bit e vi esce la canzone indicata dalla lista quindi spero che avete capito è semplice ragazzi basta cliccare sul diamantino sotto nella chat comprare i bit e poi donarli scrivendo che citer attaccato i bit ok fate la clip ragazzi grazie